Ad ottobre vieni con noi alla scoperta dei deserti del grande ovest americano. Partiremo da Los Angeles in direzione est per attraversare il Joshua Tree National Park. Poi percorreremo la pista chiamata El Camino del Diablo, proseguendo quindi verso il New Mexico per attraversare le bianche piste del White Sands National Park. Fatta una sosta presso le Carlsberg Cavern, per ammirare le stalatiti e le stalagmiti di queste monumentali grotte, punteremo a nord fino alla Mesa Verde in Colorado, uno dei siti archeologici più interessanti del Nord America. Raggiungeremo il Canyonland Arch National Park, che ci incanterà con le sue spettacolari rocce multicolori, i suoi canyon e gli archi di pietra. Poi andremo a visitare le altissime dune del Great Sands Lyon National Park e per finire supereremo il Medano Pass, prima di dirigerci verso la metà finale, Denver. Mi aspettiamo.